ciao a tutti oggi parliamo degli inchiostri erbin erbin è un produttore che ci mette a disposizione una gran varietà di inchiostri sia nelle serie quelle normali nel caramaio come come questo da 30 mm nelle serie celebrative quelle quelle più importanti quelle prestigiose ed anche più costose e nelle cartucce ma soprattutto possiamo trovare davvero tanti colori che accontentano un po i gusti di tutti persino erbin ha in catalogo una serie di inchiostri profumati le due linee celebrative di cui ci occuperemo in un altro video sono la 1798 e questo è quello della 1670 che hanno delle varietà diversi di sfumature oggi parliamo del calamaio da 30 e guardiamo un pochettino come si presenta il packaging è un bel cubetto con scritto chiaro l'inchiostro c'è anche una riproduzione diversa per ricordare quello che andremo ad aprire in questo caso è l'ambra di birmania andiamo a vedere come è fatto il calamaio erbin è un calamaio che mi è molto simpatico perché ha questa svasatura sul sulla parte superiore nella quale anche possibile far alloggiare la penna e questo diciamo è un piccolo vezzo che contraddistingue un calamaio altrimenti sapete uguale a tanti altri il colore andiamo quando si tratta di inchiostri così chiari io utilizzo una penna di vetro una glass pen perché posso pulirla senza difficoltà e andare a vedere realmente qual è il colore dell'inchiostro altrimenti sarebbe davvero molto difficile con il conduttore magari sporcato da da un inchiostro precedente per quanto insomma lo si lavi con cura è sempre difficile avere avere la giusta tonalità dell'inchiostro sapete che bisognerebbe fare un ciclo di almeno un paio di cartucce per pulire del tutto il condito conduttore dai residui e quindi vedere realmente la tinta nella sua saturazione nella sua complessità quando si fanno delle prove di intenzione è sempre un po quello il problema andiamo a vedere tanto il tappo un normale tappo in plastica bisogna dire che non mi è mai capitato che il disco che va ad ammortizzare la chiusura questo questo tappino di plastica si staccasse questo è un punto a vantaggio di erwin altri inchiostri purtroppo hanno queste problematiche che svitiamo il tappo e ci resta il disco attaccato lì ed è veramente una rottura di scatole tirarlo via perché ci imbrattiamo le dita cosa vedo qua intanto una bella apertura una bella apertura cioè il diametro la bocca del calamaio è importante e questo ci permette di intingere anche penne che magari hanno un diametro per l'appunto importante l'attenzione a questo dettaglio per me è fondamentale utilizzando spesso l'inchiostere di intenzione è un dettaglio al quale faccio molta attenzione in questo caso mi piace andiamo a vedere com'è questa tinta è molto molto particolare è uno dei problemi delle penne di vetro è proprio questo il colore è un bel colore vediamolo ovviamente questo è più una mia considerazione personale lo vedo più adatto a a qualche così a qualche scrittura particolare a qualche a qualche lettera che vogliamo magari decorare o iniziare in un certo comunque una tonalità un po diversa perché ci rendiamo conto che la tinta è tenue e quindi si fatica si fatica a vederla io faccio sempre una prova nel video lo avrete visto ho sempre il controaltare di un quaderno o di un foglio comunque quadrettato o rigato perché quello che mi consente di vedere quanto la tinta quanto l'inchiostro risulti visibile quando c'è una tramatura prestampata tra l'altro ho usato ho usato una carta rodia nella prima nella prima parte quindi una carta estremamente bianca e liscia mentre invece questa che sto utilizzando è una carta pigna più ruvida non ha sbiancanti ottici quindi non ha un bianco così importante ecco in effetti si può vedere che stacca molto meno la carta rodia a questa magnifica caratteristica di mettere in rilievo le vere tonalità le sfumature dell'inchiostro che stiamo utilizzando ora che l'abbiamo visto così andiamo a vedere invece con una penna stilografica con dei diversi pennini che cosa cambia andiamo a vedere cominciamo con un extra fine di quei livelli ecco purtroppo quando faccio questi video come vi ho già anticipato cambio molte penne faccio molti inchiostri quindi è possibile che purtroppo la tinta venga anche un po viziata allora in questo caso dobbiamo infatti in questo qui dobbiamo fermarci stop allora cominciamo a vedere un po come si comporta questo inchiostro quando lo utilizziamo con un pennino extra fine ma non abbiamo in questo caso ecco in questo caso ci accorgiamo che effettivamente un pennino sottile come questo qua che è un extra fine ha delle difficoltà perché il tratto quasi sparisce ecco vedete devo 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 per forza premere un po per per dare il corpo a maggior ragione se vado a provarlo su un su un quaderno tramato sparisce proprio peccato perché è molto è molto bello e devo dire che anche una volta asciugato come vedete cambia pochissimo diciamo che perde un solo un pochettino di brillantezza ma non ma non la sua saturazione non la sua carica cromatica cioè si capisce benissimo che è l'herbine hambre de birmanie anche quando è asciugato andiamo però a vedere adesso se invece di una punta extra fine che è quella che mette in difficoltà tutti gli inchiostri di questo tipo usiamo una punta media o quella di una waterman una waterman expert e qui le cose cambiano già ecco qua abbiamo già un tratto che ci fa vedere che colore è quello però siamo sempre nel nel campo di un inchiostro molto molto chiaro quindi sulle carte tramate secondo me è veramente difficile è veramente difficile andiamo a vedere giusto come ultima prova come cambia il tratto se utilizzo visto che qui davanti questo farò con un pennino flessibile come il pilot falcon che bello questo è proprio bello bello qui riusciamo a seconda del grado di pressione che diamo ad avere ad ottenere effettivamente una bella carica cromatica e sono anche curioso di vedere una volta che si sarà asciugato sto notando molta sto notando una bella carica ecco qui bisogna dire la verità gli inchiostri erbi non sono inchiostri particolarmente lubrificanti sono inchiostri che lasciano il pennino tutto sommato scoperto da una parte per aumentare la scorrevolezza e allora quando abbiamo un pennino flessibile che divarica i rebbi avrebbe bisogno di una tensioattività diversa di una viscosità un po' diversa per mantenere quella coesione coesione delle molecole tra un rebo e l'altro nel momento in cui si separano però guardate che meraviglia io finalmente riesco a vedere un bel colore molto anche con un effetto scendere che a me piace molto a seconda della pressione della velocità come vedete si deposita più o meno inchiostro e quindi ci dà la possibilità di valutare e di vedere delle sfumature questo è un inchiostro che a me piace molto personalmente piace molto andiamo a vedere se è passato dall'altra parte rodea è una carta da 90 grammi non è passato andiamo a vedere questa carta che è da 75 80 grammi ecco come vedete invece l'inchiostro passa quindi è più una caratteristica della carta ovviamente che dell'inchiostro però anche a questo bisogna porre attenzione quando si scrive e soprattutto abbiamo intenzione di farlo in due nei due versi fronte e retro vi ringrazio per aver seguito questo video vi invito a seguire i prossimi che riguardano sempre gli inchiostri della pene stilografica grafica grafica